Dopo la netta sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Don Bosco Fossone, la prima squadra Maranto si prepara alla trasferta in territorio pistoiese per il match valido per l'ultima giornata del campionato regionale di Serie C femminile. Le ragazze di Mister Acquisti affronteranno l'ultima fatica della stagione contro i Valdignevole, stabili sul quinto gradino del podio a 45 misure in coabitazione con il Pisa. Capitano Lucarini e compagni si apprestano a terminare il proprio percorso in campionato consapevoli di non aver deluso le aspettative stagionali. Con la capolista Lucca già promossa in Serie B, l'Arezzo si appresta a difendere il quinto gradino del ranking con una collezione di 13 vittorie e 6 pareggi e 6 sconfitte e un bottino di 62 reti segnate contro le 25 subite. Un cammino di tutto rispetto se si considerano aspetti quale l'età media delle aretine in campo, una delle più basse in tutta l'orbita toscana. Ma in grado siano poche le sorprese che la graduatoria potrebbe ancora riservare, chiudere i giochi con una vittoria permetterebbe all'Amaranto di riscattarsi dalle ultime due cadute, risollevando gli animi in vista della vicina avventura in Coppa Toscana. Dai toni meno brillanti è invece l'andamento delle avversarie del Valdignevole, attualmente quart'ultima in graduatoria con 24 punti portati in cascina dall'inizio della stagione. Questo weekend il tecnico Amaranto Paolo Acquisti avrà a disposizione l'intera rosa, sebbene sia ancora incerta la presenza di Paganini, assenta anche domenica scorsa a causa di un problema alla caviglia. Confermata la difesa, corre Insognaterini e Zeghini e Antonelli tra i pali, mentre non mancheranno Lucarini e Chiodi in attacco. Insognaterini e Zeghini